Eccoci in nessun altro posto che qui alla vigilia, mancherebbe altro, mercoledì è andata come è andata ma Carbonolo non si discute. Buon weekend a partire dal sabato, speriamo bene, grazie. Ci spostiamo, ci spostiamo dopo la conferenza stampa del nostro allenatore, ci spostiamo qui dove siamo abituati a parlarci, a vederci, a sondarci, a scrutarci. Prima delle partite ufficiali della nostra squadra, in particolare in campionato. Più ci penso, più questo 3-0 con il Chelsea mi viene da paragonarlo un po' al 3-0 contro l'Inter in Coppa Italia la scorsa stagione, anche se lì avevamo creato molto di più. E al 3-0 contro il Lille, se ricordate nella stagione ancora precedente, quando poi riuscimmo a raddrizzare il girone, ma quella sconfitta con il Lille fu raggelante. E molto simile a quella che abbiamo subito a Londra con il Chelsea, nello spirito, nella conformazione della partita. Allora, Milanello concentrata, Milanello appuntita su questa partita con la Juventus. Stefano Pioli ha voluto mandare a dire ad Allegri che le sue frasi prima delle partite qui vengono capite. E' stata girata a Mister Pioli una considerazione di Allegri durante la conferenza stampa Juventus. E ricorderete poi anche la conferenza stampa di gennaio, quando ci fu quello 0-0 con la Juve a San Siro. Pochi giorni dopo i fatti di Serra e di Milan-Spezia su quel campo messo male. 0-0, Allegri che diceva prima della partita sfida più importante per loro che per noi. In realtà sotto sotto lui sperava di sfruttare il momento di disorientamento Milan per la sconfitta con lo Spezia. E invece poi si trovò ad esultare con i suoi giocatori per un pareggio. Ecco, questa tendenza a mandare messaggi, un po' di malizia, un po' di furbizia prima delle partite, Pioli l'ha un po' messa a posto. So bene che è Allegri e furbo e sa preparare bene le partite. Quindi stima, rispetto ma anche consapevolezza e attenzione. Perché naturalmente a Milanello non si fanno le conferenze stampa per fare teatrini o per mandare messaggi. E si gigioneggia poco e si fa tanta sostanza prima delle partite. Però, ecco, ogni tanto qualcosina la si può anche dire con il dovuto garbo e il dovuto rispetto. È stato toccato il tema degli infortuni. La risposta di Stefano Pioli mi ha confermato che siamo di fronte a un mister, a uno staff assolutamente aggiornati e connessi. Quando è stata fatta la domanda sugli infortuni, il numero dei muscolari, gli infortuni muscolari di questa stagione, la scorsa stagione, Stefano Pioli ha ricordato la conformazione di questa stagione. Ha ricordato che se i nostri infortuni sono gli stessi la scorsa stagione, mediamente, in questa annata con il mondiale di mezzo, gli infortuni muscolari sono aumentati al 20%. Quindi, per carità, noi dobbiamo pensare ai nostri di infortuni, ai nostri di problemi e alle nostre di cose. Però c'è anche da dire che, insomma, il nostro è un allenatore che sa come va il mondo, ecco. Che sa cosa succede, che sa quello che accade. Si era riferito il mister nel pre-partita alle domande su Teo, non ha voluto rispondere con nettezza perché aveva parlato di Orighi presente in Sampdoria-Mena, ricorderete, la partita dopo il derby e dopo il Salisburgo. Allora disse Orighi recuperato, Orighi ci sarà, invece Orighi poi non andò a Genova e questa volta ha preferito usare il condizionale per Teo Hernandez come giusto, come normale, come doveroso che sia trattandosi degli allenamenti di Teo a ridosso della partita con la Juventus. È chiaro che è importante il ritorno di Teo. Ho letto da qualche parte che Teo è un giocatore che dà sicurezze alla squadra, cioè averlo o non averlo sul carisma, sul profilo psicologico della squadra incide. Può essere che ci sia particolare autostima, ma la nostra è una squadra che l'anno scorso anche senza Teo ha vinto pari temporati di campionato, anche se c'è un'assonanza fra Porto-Milan 1-0 e Chelsea-Milan 3-0. Due brutte partite, le più brutte del Milan in Champions League e non c'era in entrambi i casi Teo Hernandez. Ora, non è che tutti gli altri sono lì a dipendere da Teo Hernandez, però è probabile che il carisma, l'esuberanza, lo strapotere nella corsa da un certo punto di vista di Teo Hernandez tolga magari qualche componente di sicurezza alla squadra. Non lo so, è un'ipotesi, una probabilità, ma di certezze non ce ne sono. Il mister ha detto che Rebiciano ancora al 100%, che Giroud vuole giocare, magari così ha usato un po' di malizia, un po' di pretattica anche il nostro allenatore, magari sì, magari no, non lo so, non ne ho nemmeno idea, però diciamo che la squadra veramente verrà decisa domani mattina. Verrà decisa domani mattina, io credo che sia al di là di Teo Hernandez, io ho la sensazione che potrà essere un po' diversa da quella che ha giocato a Londra. Come, dove e perché? Non mi sogno nemmeno di dirlo, perché poi allegri le sue cose, le nostre cose le scoprirà da solo, quando non lo so, però le scoprirà da solo e non gliele diciamo certo noi. La Juventus è in ripresa, ha passato una brutta sosta dopo la sconfitta di Monza, ha battuto il Bologna e il Maccabi, dice ma il Bologna e il Maccabi, ma io dico che le partite vanno sempre vinte, perché vedete con Salernitana e Monza la Juve non aveva vinto e Salernitana e Monza in questo momento sono del livello del Bologna e del Maccabi, per cui se la Juventus le ha vinte queste partite non è un caso e bisogna stare attenti. È chiaro che, ragazzi, abbiamo appena finito di fare la doccia Stanford Bridge e domani giochiamo con la Juventus, quindi la doccia negli spogliatoi dopo la partita, non la doccia di gol. E quindi è chiaro che domani sarà dura, ci sarà un grandissimo stadio, immagino uno stadio tutto esaurito. Ci ha abituato ai sold out, la splendida gente rossonera, lasciatemi fare un grande e accorato complimento alla nostra Curva Sud. I ragazzi della Curva Sud sono meravigliosi, arrivano in corteo negli stadi, poi vanno via in silenzio, arrivano a casa, soprattutto in campionato, tante tante ore dopo la fine delle partite, dedicano tempo, energie, come tutti i tifosi, insomma, a tutto, però a Stanford Bridge hanno cantato anche sul 3-0 fino a fine della partita a testa alta, con l'orgoglio rossonero nel cuore. Questo è stato qualcosa che ha dato animo, ha dato orgoglio a tutti i tifosi del Milan che non erano a Stanford Bridge ma che erano davanti alla TV. Sentirsi rappresentati da quei cuori, da quei cori e da quei cori, da quei canti e da quelle ugole, ci ha fatto tutti molto piacere. Pensiamo alla partita di domani, si gioca alle 18, non sto a fare precedenti di orario di sabato, dobbiamo davvero rimanere concentrati su questo trittico perché è un trittico pesante, noi dobbiamo giocare adesso due partite contro il Chelsea, perché noi siamo arrivati 3-0 dal Chelsea e questa è una squadra che queste sconfitte le vuole riscattare subito. Facciamo conto che anche la Juventus sia un po' il Chelsea contro cui dovremmo cercare di dare tutto martedì. Dobbiamo rimanere dentro questo trittico, poi il calendario non dico che si semplifica, però poi ci sarà dopo martedì qualche giorno per preparare Verona, una settimana per preparare il Monza, insomma non dico che si semplifica, ma certamente sarà un calendario un po' diverso da questa devastante sequela di partite, mercoledì, sabato, martedì in sei giorni Chelsea, Juventus e Chelsea. Assolutamente pazzesco, ma affrontiamo tutto ragazzi, a domani, prima della partita e naturalmente poi dopo la partita. Ciao a tutti, a domani.